da molti mesi sto lavorando ad un appassionante ricerca sulla musica napoletana anzi direi meglio sulla canzone napoletana di ieri e di oggi che ne so c'è tra salvatore di giacomo e pino daniele tra la nuova compagnia di canto popolare e in uguinea chi era è a mario potrei continuare così all'infinito in assonanza alle quattro giornate di napoli ho pensato così ad un piccolo progetto che si chiama quattro serate di napoli quattro serate per parlare di musica napoletana per ascoltarla cominciamo giovedì 28 febbraio e lo facciamo all'archivio storico non a caso perché è un faro nella valorizzazione dei primati della cultura napoletana e la canzone napoletana certamente lo è ci sarà con noi pasquale scelò autore di questo bellissimo libro l'archivio storico sapete dov'è